Prima ho notato che il telefono rimaneva praticamente in stand by con la schermata di 3 sempre acceso ho pensato bene allora di dare un occhio a quanto tempo stesse passando tenete conto che ho cominciato a girare questo video esattamente 2 o 3 minuti dopo che il telefono aveva cominciato a rimanere in stand by a questo punto mi verrebbe da dire ma quale ora sarà quella in cui il telefono è in stand by da 2 o 3 minuti allora sono le 13.55 come potete vedere sono le 13.56 e siamo ancora al punto di prima a questo punto le 13.57 vabbè va tolgo la batteria